I contagi da Covid-19 in Molise non decrescono come sperato, restano le critiche circa l'organizzazione del sistema sanitario in regione. Lunedì 18, il rientro a scuola per gli alunni delle superiori, la conferma dal Ministero dell'Istruzione, si abbandona in parte la didattica a distanza. Arrestato dalla polizia, il giovane che ha rapinato un anziano a termo, i dettagli dell'operazione illustrati oggi in una conferenza stampa alla Questura di Campobasso. Il comune di Campobasso apre dal lunedì 18 gennaio alla presentazione delle domande per assegnare buoni spese alle famiglie bisognose della città. Bentrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale DT e Letti Molise. L'andamento del contagio non decresce nonostante la regione sia stata collocata in zona gialla. Ancora critiche all'organizzazione del sistema sanitario, indicativo il presidio alle porte del Cardarelli di Campobasso. Come poteva il Molise frondeggiare adeguatamente questa tragedia se in 50 anni, a proposito di epidemiologia, non è stato capace di dotarsi del registro dei tumori. Ovviamente per sopperire alle mancanze e ai danni prodotti dalla politica ci sono stati dei commissari che hanno aggravato la situazione. In condizioni analoghe, e cioè in Calabria, i commissari sono stati rimossi. Noi chiediamo alle forze di governo molisane che sono insieme al governo a Roma, e cioè al PD e al Movimento 5 Stelle, di premere affinché questi commissari vengano rimossi perché non sono stati in grado nemmeno di ripianare i debiti. Quindi già la missione primaria è stata abbondantemente disattesa. Naturalmente non avendo fatto l'ospedale Covid a Larino, tutto questo ha aggravato la condizione dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Quando ci si trova, cioè di fronte a queste palesi inefficienze, il governo dovrebbe rimuovere anche la funzione commissariale al presidente della giunta regionale, relativamente ovviamente alla lotta al Covid. E l'Avis ha promosso nel poliambulatorio di Riccia la raccolta di sangue e i tamponi rapidi per la rilevazione del Covid-19 ai volontari. Effettuati 21 test da altrettanti donatori, i riscontri sono stati ottimi e a breve verrà organizzato un nuovo screening gratuito per i volontari. Le restrizioni governative messe in atto attraverso i decreti del presidente del Consiglio continuano a preoccupare i gestori delle attività delle stazioni sciistiche italiane ancora ferme. La situazione a Capracotta. Sembra proprio non ci sia l'auspicato rilancio delle stazioni sciistiche italiane, quello che tutti i gestori delle attività legate alla neve speravano, e cioè una nuova presenza di turisti nei luoghi delle vacanze bianche. La questione sta tutta nel fatto che gli impianti di risalita rimarranno ancora chiusi e dunque non sarà possibile praticare lo sci a meno che non si faccia a fondo in solitaria. La pandemia non lascia tregua ed anzi sembra proprio bisogna alzare di nuovo lo steccato della sicurezza per quello che sembra il periodo dell'incremento, l'annuncio di una terza ondata. Nella morsa dell'immobilità anche le stazioni sciistiche molisane come quella di Capracotta. La stagione 2021 purtroppo, come tutti sappiamo, è condizionata da questa pandemia mondiale che ancora è in piena. Da un punto di vista degli atleti dello ciclera abbiamo svolto una buona preparazione, adesso stiamo affinandola su neve e siamo fiduciosi di fare dei buoni piazzamenti nelle prossime gare di livello nazionale. Per quanto riguarda le competizioni regionali, viviamo settimana per settimana e qui sul pianoro di Prato Gentile ne sono in programma due, una alla fine di gennaio ed una alla fine di marzo, insomma speriamo di riuscirle a svolgere in totale sicurezza e così da archiviare anche questa stagione con qualcosa nel sacco. Come scuola sci non abbiamo fatto programmi, sono sincero perché le disposizioni cambiano da settimana a settimana. Lo sci di fondo è un'attività consentita in quanto viene svolta all'aperto e quindi in forma individuale è sicuramente consentita. Per quanto riguarda le lezioni stiamo ripartendo un pochino alla volta, non facendo lezioni collettive ma quindi le lezioni di tipo individuale. Il Ministero dell'Istruzione conferma per il Molise il rientro a scuola lunedì 18 per gli alunni delle superiori. Tornerà a suonare la campanella lunedì 18 per la ripresa delle lezioni in classe nelle scuole superiori delle province di Campobasso e Isernia. La comunicazione del Ministero dell'Istruzione dopo la firma del nuovo decreto del Premier Nazionale Giuseppe Conte, gli istituti superiori adotteranno forme flessibili nella didattica in modo da garantire agli studenti l'attività in presenza dal 50 al 75 per cento, salvo diverse disposizioni dalla giunta regionale dell'ultima ora. La rimanente parte dell'attività si svolgerà a distanza. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o per garantire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali. Le lezioni proseguiranno a svolgersi in presenza nelle scuole delle infanzi, elementari e medie. Restano infine sospesi viaggi di istruzione, le iniziative di scambio culturale, le visite guidate e le didattiche, ad esclusione delle attività inerenti, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Giornata dell'Open Day, quella di domani all'Istituto Superiore Mario Pagano di Campobasso per le famiglie che vorranno iscrivere i propri figli al liceo classico e artistico del Capoluogo o al liceo scientifico di Riccia. Le iscrizioni al prossimo anno scolastico saranno possibili fino a lunedì 25. L'Open Day si svolgerà in modalità remoto, applicazione Meet di Google dalle ore 9 alle 18 e 30. E passiamo alla cronaca, la polizia di Termoli ha arrestato un giovane di 23 anni accusato di rapina ai danni di un anziano. Grazie alle indagini le forze dell'ordine sono riuscite ad assicurare il malvivente alla giustizia proprio nel momento in cui stava cercando di vendere la refurtiva. In tempi di pandemia ci siamo abituati alla difficile condizione di dover limitare i contatti sociali e gli spostamenti con l'obiettivo di combattere l'avanzata del virus. Ma questa condizione non sempre si esercita anche nell'ambito della criminalità. Come avvenuto qualche giorno fa a Termoli dove un giovane di 23 anni si è macchiato del reato di aggressione nei confronti di un uomo di 83 anni. L'anziano era da poco uscito dalle poste dove era andato per ritirare la pensione e si stava accingendo a salire a bordo della sua 500 Blue, quando il ragazzo, favorito dall'assenza di passanti lungo la strada del centro adriatico, ha estratto un coltello e minacciato di morte il malcapitato con l'obiettivo di rapinarlo. Nel tentativo di sventare la rapina l'ultraottantenne ha provato a difendersi, questo perché l'obiettivo del malvivente era quello di sottrargli un anello d'oro, un valore per l'anziano non solo materiale ma anche affettivo. Riuscito nel suo intento il giovane si è dato alla fuga facendo momentaneamente perdere le sue tracce. Poco dopo sul posto gli uomini della polizia di stato, chiamati dall'uomo ancora sotto shock per l'accaduto, hanno dato vita ad una fitta rete di indagini che hanno coinvolto anche le registrazioni di sorveglianza dei locali commerciali. Le indagini sono servite a ricostruire la storia e ad anticipare le mosse del malvivente. Secondo le forze dell'ordine infatti di lì a poco l'uomo si sarebbe recato presso un comproro per poter incassare liquidità e così è stato. Il giovane è stato infatti colto in flagranza di reato mentre provava a vendere l'anello rubato e nel tentativo disperato di scampare alla polizia ha provato ad ingoiare il gioiello. Sì, è un episodio che ha creato diverso allarme sociale, specialmente tra le fasce più deboli. La nostra attenzione è rivolta proprio alle fasce più deboli, a chi è solo, a chi magari vada solo a prendere la pensione come era accaduto quel giorno e con una sapiente ricostruzione dell'accaduto e con il coordinamento della Procura della Repubblica di Larino si è giunti alla conclusione di questo episodio. Avevamo bisogno non solo di dare maggiore spunto all'attività investigativa ma c'è da dire che il tempo trascorso è servito a una perfetta ricostruzione dell'accaduto. Sì, un fatto violento perché ha visto come vittima una persona ultraottantenne con problemi di salute, ma un fatto violento che spero non si ripeta più in quella cittadina anche perché c'è stata una risposta immediata da parte di tante persone che hanno collaborato alle indagini. Sono stati rintracciati ed identificati tre autori di un tentato furto nelle campagne del Basso Molise, la banda composta anche da una donna avvalendosi di un furgone preso in prestito da un amico, aggirandosi nei pressi di Cassacalenda hanno adocchiato un mezzo agricolo di proprietà di un agricoltore locale. Senza esitazione lo hanno agganciato al furgone e si sono diretti verso la strada asfaltata, ma sono stati notati da un cittadino il quale ha urlato mettendoli in fuga. Il mezzo agricolo è stato abbandonato nei campi ed i ladri, dopo mirate ricerche, hanno identificato e denunciato i tre malviventi. Per due di essi proposta l'emissione di foglio di via obbligatorio. I carabinieri del nord e della stazione di Isernia impegnati nel contrasto del fenomeno delle soste selvagge a tutela delle persone diversamente abili. I militari hanno controllato 40 mezzi ed elevato 9 contravvenzioni al codice della strada per soste arbitrarie nei parcheggi riservati alla categoria. Complessivamente è stata verbalizzata la somma di 783 euro e sono stati decurtati 18 punti. Boucher per l'acquisto di alimenti e beni di prima necessità per le famiglie bisognose il comune di Campobasso apre alla presentazione delle domande. Dalle ore 9 di lunedì 18 gennaio si potranno presentare le domande per beneficiare di contributi economici per l'acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità rispondendo all'avviso pubblico del comune di Campobasso. I nuclei familiari residenti nel capoluogo molisano con isa e non superiore a 10.000 euro potranno farne richiesta utilizzando la piattaforma denominata Bonispesa SICARE. Si darà priorità a chi non usufruisce già di altre misure di sostegno come ad esempio reddito di cittadinanza o cassa integrazione guadagni. I contributi verranno erogati mediante voucher elettronici da spendersi esclusivamente in uno o più esercizi commerciali e artigianali accreditati dal comune. Ad indicarli un apposito elenco non ci sarà quindi passaggio di denaro. In ogni caso il comune metterà a disposizione di tutti i beneficiari materiale informativo ed per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 351 68 84 347 il lunedì mercoledì venerdì dalle 9 alle 12.30 il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 oppure lo 0874 405862 il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Si potrà anche inviare un'email a serena.ruggiero.comune.campobasso.it o a vittorio.scarano.comune.campobasso.it Sempre da lunedì prossimo potranno rispondere alla manifestazione di interesse esercizi commerciali e artigianali operanti sul territorio del comune interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi e servizi di prima necessità. Il documento è scaricabile dal sito dell'ambito territoriale di Campobasso e la domanda dovrà essere presentata utilizzando la piattaforma web dedicata. Per info è possibile contattare l'ufficio commercio del comune di Campobasso allo 0874 405529 o allo 0874 405524 o ancora alle email letizia.colella.comune.campobasso.it o angelo.cefaratti.comune.campobasso.it Importanti spirali occupazionali in vista al Consorzio Industriale di Termoli. A febbraio la firma per un nuovo polo logistico al servizio delle comunità locali. Consorzio Industriale a Termoli da rilanciare e aumentare fatturato e nuovi stabilimenti produttivi. A buon punto i contatti con un'azienda di Cesena per la realizzazione di un nuovo polo logistico che potrebbe dare occupazione ad oltre 800 dipendenti. Se tutto andrà per il verso giusto dopo la fabbrica automobilistica incontrata a Pantano Basso, sarà questa la seconda più grande azienda nell'area tra Termoli, Campomarino e Guglionesi. È l'annuncio dal Cosib della località adriatica. Sotto la lente i nuovi sbocchi lavorativi che la dirigenza del Consorzio intende dare al polo più importante dell'area costiera della regione alla luce dell'accordo sfumato con Amazon, il cui sito approderà poche decine di chilometri a San Salvo. Per il litorale molisano invece sono pronti ad aprirsi nuove opportunità attraverso un accordo preliminare che dovrebbe essere firmato a metà febbraio con una società di logistica. La presentazione di diversi progetti di espansione al Cosib è prevista entro la fine di gennaio, una opportunità da non sciupare per offrire servizi alle collettività e alle imprese industriali del Basso Molise. Una buona notizia per mitigare il rischio idrogeologico in Molise. Lo stralcio dello specifico Piano Nazionale 2020 infatti prevede oltre 3 milioni di euro per 5 interventi in altrettanti comuni della regione. Gli interventi fondamentali per mettere in sicurezza i cittadini e tutelare l'ambiente non possono fermarsi e infatti non si fermano. Inizia con queste parole e questo concetto la comunicazione del parlamentare molisano Antonio Federico che sottolinea come nello stralcio del Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico 2020 si prevedono 3 milioni 388 mila euro per 5 interventi in altrettanti comuni molisani, Castelverrino, Pietracupa, Carovilli, Pesche e Poggio Sannita. Si tratta in effetti di alcuni progetti finanziati dal Ministero dell'Ambiente che sono immediatamente esecutivi e prontamente messi in cantiere con lo scopo di provvedere alle aree più vulnerabili del Paese rispetto ai rischi sempre maggiori derivanti da eventi climatici estremi. Nello specifico 228 mila euro sono stati destinati al comune di Castelverrino per lavori di consolidamento a ridosso del centro abitato, 210 mila euro a Pietracupa per lavori di messa in sicurezza del territorio comunale, 700 mila euro a Carovilli per la messa in sicurezza del costone roccioso di Monte Ferrante, 1 milione 800 mila euro a Pesche per la sistemazione geotermica del costone roccioso retrostante l'abitato alto del comune e 450 mila euro sono stati destinati a Poggio Sannita per interventi sul costone roccioso sovrastante via Santa Lucia oltre che per arginare la caduta dei massi. Il Parco del Matese torna all'attenzione di tutti per merito di alcuni consiglieri regionali di opposizione che hanno voluto chiedere al Presidente Toma e all'intera maggioranza lo stato del percorso e le tempistiche per la sua più concreta attuazione. Si torna a parlare in Molise del Parco del Matese e lo si fa da parte soprattutto dei consiglieri regionali di opposizione che con varie motivazioni si rivolgono al Presidente Donato Toma per conoscere a che punto è il percorso istitutivo concreto. Il primo è Angelo Primiani del gruppo del Movimento 5 Stelle che afferma letteralmente come l'istituzione del Parco del Matese rappresenta un'imperdibile occasione di sviluppo socio-economico per una vasta area del territorio molisano che sta soffrendo la crisi come non mai. Sottolinea anche come vada ricordata la scelta del Ministero dell'Ambiente nel Piano Nazionale per la Biodiversità quando ha individuato il Matese come area prioritaria per la conservazione della biodiversità nell'ecoregione mediterraneo centrale. Primiani è molto chiaro e spiega il suo intervento. Nonostante siano passati quattro anni dall'istituzione normativa del Parco ci troviamo ancora oggi a parlare di perimetrazione. La regione è andata dritta con l'elaborazione di una perimetrazione risultata in forte contrasto con le proposte dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale che ha chiesto di apportare alcune modifiche. Più o meno stesse obiezioni anche da parte di Micaela Fanelli del gruppo del Partito Democratico che insieme a Primiani ha presentato una specifica interrogazione. Nella condivisione piena delle critiche e delle obiezioni resta la sua posizione ferma sull'essere al fianco dei cittadini del Matese anche in vista del Consiglio Comunale di Boiano previsto per il prossimo 29 gennaio che affronterà la questione ma anche continuando a sostenere tutti gli amministratori, le associazioni, i partiti, i movimenti, i cittadini che da tempo rivendicano la sede del Parco in territorio molisano. Perché l'occasione storica è a portata di mano, afferma, e non dobbiamo sciubarla. Rilanciare il Molise sfruttando le sue peculiarità ed utilizzando i fondi europei. Sentiamo le considerazioni del Consigliere Comunale di Venafro Stefano Buono. Stefano Buono, lei in questi giorni ha elaborato un piano, pur in un periodo di crisi, un piano per rilanciare il nostro Molise. Qual è? Il Molise deve diventare una piccola Svizzera. Qual è la vocazione naturale della nostra regione? A mio giudizio è quella di essere green, il simbolo della sostenibilità, di un modello di sviluppo sostenibile. Noi abbiamo i grandi paesaggi, le bellezze naturalistiche, la bellezza dei borghi storici, le caratteristiche, le peculiarità e le grandi potenzialità del parrimonio enogastronomico. In che modo possiamo valorizzare e fare del Molise la piccola Svizzera sfruttando le grandi opportunità che ci derivano dalle grandi difficoltà purtroppo economiche e sanitarie emergenziali di questi giorni. Le opportunità sono principalmente quella che coincide con il Recovery Plan, con i fondi che arriveranno dall'Unione Europea e devono essere inevitabilmente spesi entro il 2026 e l'altro strumento straordinario di cui disporremo è la programmazione settennale dei fondi strutturali europei che vedranno il Molise tornare a stare nel cosiddetto obiettivo 1, quindi ad avere l'opportunità di prendere più finanziamenti in termini di quantità dall'Europa. Ecco, dobbiamo avere questa idea di fondo alla quale deve eseguire una capacità di programmazione. Innanzitutto grandi infrastrutture, quattro corsie, la cura del ferro con il potenziamento della ferrovia e l'investimento anche sulle infrastrutture immateriali, con il digitale e con l'investimento sulla fibra ottica. Rendere il Molise percorribile e collegato col mondo. Fatto questo, noi possiamo a quel punto investire sul green. Penso ad esempio ad una pista ciclabile. I cugini abruzzesi hanno fatto sulla costa triatica una pista ciclabile di 40 km che oggi è percorsa sia dagli abruzzesi che dai tanti turisti che appositamente vanno lì. Incentivare le imprese che immestano sul rinnovabile, incentivare chi immeste sulla mobilità sostenibile, sull'aumento di tecnologia sulla mobilità. Se noi facciamo tutto questo, noi rendiamo il Molise percorribile, percorso visitato o visitabile e ne facciamo l'icona della mobilità, del sviluppo sostenibile. La nostra classe politica regionale è in grado di realizzare questo programma? Io sono scettico, purtroppo. C'è il pessimismo della ragione ma l'ottimismo della volontà che mi fa sperare bene. Ma devo dire che in queste settimane stiamo registrando quella che è una vecchia abitudine nella nostra politica e che è quella di presentare tantissimi progetti per poi distribuirli a pioggia. Oltretutto in questo specifico caso, parlo dello strumento del recovery plan, noi corriamo un rischio ulteriore che è quello che questi progetti non ci vengano finanziati perché ci sono delle polisi, delle direttive precise e che non coincidono evidentemente con quanto sta mettendo in campo il governo regionale Toma per intercettare i finanziamenti del recovery. Il rilancio dell'economia molisana attraverso le risorse previste dal recovery plan se ne discuterà martedì 19 gennaio in diretta alle ore 18 sulla piattaforma Zoom nell'appuntamento organizzato dal Partito Democratico di Isernia. Al dibattito parteciperà anche l'eurodeputato Andrea Cozzolino, responsabile nazionale del Dipartimento di Coesione Territoriale del PD. E il Molise in zona gialla e pertanto il 18 gennaio il Museo dei Misteri di Campobasso riaprirà al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. Tutto dovrà avvenire in modalità di sicurezza e come la scorsa estate sarà obbligatoria la prenotazione direttamente dal sito www.misterietradizioni.com nella sezione Museo. E passiamo ora alle previsioni del tempo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salmo. Clima instabile oggi sul Molise, cielo parzialmente coperto nella prima parte, ne vischio sulle zone di montagna, temperature in calo, comprese tra i meno 1 di Campobasso e la massima di 6 gradi a termoli, correnti settentrionali, mosso il mare Adriatico, in serata lento miglioramento del quadro atmosferico, domattina sulla regione valori climatici in rialzo, cielo variabile e venti sud-occidentali. Dopo la sconfitta della Magnolia Campobasso ad opera dell'Umana Venezia nel campionato di basket femminile di serie A1, questo fine settimana si svolgeranno le restanti partite della sedicesima giornata. Andiamo a vedere le gare in programma e la classifica. Sedicesima giornata del campionato di serie A1 di palla a canestro femminile, si sono già disputati gli anticipi tra Umana Venezia e Magnole a Campobasso, 95 a 78, e Empoli basket schio 62-87. Il resto degli incontri sono Dinamo Sassari-Ragusa, San Martino di Lupari-Sesto-San Giovanni, Lemura-Lucca-Costa-Masnaga, Vigarano-Bologna e Battipaglia-Empoli. La classifica, Umana Venezia, 32 punti, basket schio 26, Bologna 24, Ragusa 22, Empoli Sesto-San Giovanni e San Martino di Lupari 16 punti, Costa-Masnaga 14, Magnoli a Campobasso quota 10 punti, Bruni 93-8, Dinamo Sassari 6, Lemura-Lucca e Vigarano 2, Battipaglia quota 0 punti. 12 giornata del campionato di serie D, Girone F, Dolce Amara per le squadre molisane, Campobasso e Vasto Girardi infatti non scenderanno in campo a causa di alcune positività da Covid riscontrate negli avversari. Tutto regolare invece per l'Agnonese chiamato ad affrontare in trasferta il Rieti. Andiamo a vedere insieme le grafiche. 12 giornata del campionato di calcio di serie D, Girone F, Vastese, Castelnuovo-Vomano, Cinzia Albalonga-San Nicolo Notaresco, Pineto Fiuggi, Giulianova-Aprilia, Re Canatese-Castelfidardo, Rieti-Olimpia-Agnonese, Porto Santelpidio-Montegiorgio, Tolentino-Campobasso e Vasto Girardi-Matese rinviate. La classifica. Campobasso e San Nicolo Notaresco 20 punti, Castelnuovo-Vomano 19, Rieti 17, Cinzia Albalonga e Vasto Girardi 16, Pineto 15, Re Canatese-Montegiorgio 14 punti, Fiuggi 13, Castelfidardo 12, Tolentino 11, Matese 10, Vastese e Aprilia 9 punti, Giulianova 5 e Olimpia-Agnonese-Porto Santelpidio 2 punti. E con questo è tutto, si chiude il nostro telegiornale, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni della nostra informazione. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.